Ci sono buone notizie per gli amanti della montagna terramana in vista della stagione invernale. Sarà infatti riattivata la cabinovia della Madonnina, ma solo per il trasporto con la possibilità di effettuare le attività alpinistiche e fuori pista e con l'esclusione dei tapirulani e delle strutture presenti del bacino sciistico, anche perché la quadriposto e il pilone hanno necessità di revisione straordinarie e quindi rimarranno fermi. E' questa la decisione del Correneva, il Comitato Tecnico Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe, che ha rilasciato con prescrizione il certificato di immunità delle valanghe per far girare la cabinovia della Madonnina, ma senza utilizzo delle piste come richiesto dal gestore Marco Finori. Una mezza riapertura dunque che non entusiasma gli operatori turistici presenti nel comune montano. Sì, meno male che funziona, ma questo io non lo considero un successo, perché in realtà che funzioni la Madonnina in queste condizioni è il minimo sindacale. Storicamente sempre tutti questi adeguamenti, permessi e obbligazioni si sono sempre fatte e hanno le loro difficoltà. Il problema è che dal 2019 a questa parte quello che era normale è diventato straordinario e quindi queste cose alla fine nessuno le fa e ci troviamo come ci troviamo. Cosa significa questo per gli sciatori? Cosa si potrà fare in montagna quindi? Solo il freeride, che è uno sci nettamente fuori pista, che non ha bisogno di piste, e quindi potranno salire con la cabinovia e scendere al loro rischio e pericolo come sempre si è fatto. Il freeride è così, il freeride funziona appunto come uno sci che non ha bisogno di piste, che sci dove lo sciatore vuole e quindi si fa. Ma, ripeto, questo è il minimo sindacale. Il freeride è l'equivalente della persona che va a passeggio sulla montagna. Ma nel pomeriggio di ieri è stata molta la paura per una gru crollata a terra a causa del vento. Le pericolose oscillazioni provocate dalle raffiche già nel corso della mattinata avevano portato il sindaco di Pietracamela Antonio Villani a firmare un'ordinanza di interdizione al traffico dell'area e del tratto di strada che si trova davanti al cantiere della gru e in cui nella giornata ieri fortunatamente non c'erano operai al lavoro.